grazie mille siete molti grazie mille il post presenta l'invenzione del buono è un'occasione troppo ghiotta per lasciarci scappare ciao a tutti buonasera grazie per essere qui grazie al circo dei lettori per questa opportunità di presentare il libro di matteo è la tua seconda terza quarta presentazione tipo seconda non so abbiamo fatto milano poi una strana tappa pistoia ma comunque si di presentazione presentazione la seconda bene 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 allora il librino possiamo chiamarlo librino non è un vezzeggiativo diminutivo sminuente ma il librino si chiama appunto l'invenzione del boomer e contiene un sacco di cose tra l'altro secondo me qua la prima cosa che forse ti chiederei è un po questa cioè tu parli di questa espressione nata a un certo punto qualche anno fa poi diffusa in rete e che ancora oggi usiamo tantissimo anche fra di noi nelle conversazioni online offline questo però diciamo è il parlare di intorno alla definizione di boomer è un po un gancio è un po una scusa per parlare di noi per parlare del modo in cui comunichiamo per parlare del modo in cui usiamo certe categorie no in realtà ecco questa è la prima domanda che vorrei farti e cioè quella vorrei chiederti di farci un piccolo spoiler del libro perché nella prima parte del libro tu sostieni che la parola boomer sia sostanzialmente scorretta nel senso che noi l'abbiamo importata come un animale diciamo alieno una specie aliena qui in italia in un contesto molto diverso da quella in cui è nata e che forse dovremmo usarne un'altra al posto di boomer insomma già nella prima parte del tuo libro stai un po negando insomma la premessa del titolo e tutto questo però appunto faccio uno spoiler dici perché la parola boomer è sbagliata scorretta la usiamo in maniera impropria diciamo che credo che la parola boomer sia una parola talmente efficace che anche se è imperfetta è nata in un modo un po rocambolesco quindi rotolando dal contesto americano dentro al nostro comunque è talmente efficace che resiste ha funzionato perché dobbiamo immaginare che le parole siano degli animaletti che se nessuno accarezza spariscono e se qualcuno ha accarezzato la parola boomer così tanto è la trovata interessante anche se non ha una sostanza storica che la sostenerla diciamo nel significato originario significato diciamo classico tradizionale il baby boomer con baby davanti e poi diciamo per semplificazione il boomer è qualcuno che è nato fra il 46 e il 64 e rappresenta una un gruppo di persone una corte come si dice molto numerosa negli stati uniti i boomer sono stati veramente sono se si guarda la curva demografica degli stati uniti a un certo punto c'è proprio una gobba è una gobba di quelle dimensioni ha un effetto notevolissimo perché per esempio tra le cose che poi non ho messo nel libro ma che ho trovato c'è il fatto che nella contea di los angeles da quando ci sono stati i boomer è stata inaugurata è stato inaugurato per non so quanti anni ma tantissimi un nuovo edificio scolastico nuovo istituto scolastico ogni mese perché ovviamente se hai milioni di persone in più che appartengono a quella categoria ci vogliono prima più scuole elementari poi più scuole medie poi più scuole superiori poi più spazi all'università cioè rappresenta proprio una un'eccentricità rispetto alla situazione demografica del paese perché gli stati uniti venivano da quel disastro che è stata la crisi del 29 gli anni 30 la dust bowl quindi avevano avuto proprio un depauperamento demografico e poi con la fine già durante gli anni della guerra che non li ha toccati direttamente no se non per lo sforzo bellico economico eccetera però non li ha toccati c'è stato un aumento e poi con la fine della guerra è proprio impazzita la curva da noi no in italia la curva demografica è in crescita abbastanza costante c'è forse se non sbaglio c'è un anno che è il non mi ricordo c'è un anno lo dico anche nel libro in cui c'è un piccolo un piccolo spostamento rispetto a una linea che sale il punto è che il boomer sarebbe il lo statunitense nato fra il 46 e il 64 ma poi nel tempo per estensione abbiamo adottato un po tutti questo modo di dire perché effettivamente l'abbiamo adottato insomma riferendoci alla demografia alla demografia e poi è diventata una parola di uso comune in sostanza nel 2019 così da sola senza baby perché effettivamente in tutto il mondo il boomer ha rappresentato il primo cittadino che viene definito possiamo anche parlare di questa definizione che è un po ballerina non per la partecipazione a una guerra l'aver vissuto il dramma della guerra essere stato figlio di gente che ha fatto la guerra averla fatta in prima persona no il boomer è quello che nasce nel momento in cui non si combatte si dimentica il dolore della guerra e si spera sono i figli della speranza dell'ottimismo del senso di progresso di potenzialità di sviluppo potenziale della società e questo li caratterizza e però invece in italia tu dici che questo aumento demografico che invece negli stati uniti si è gestato fa il 46 64 non c'è stato ed effettivamente se poi si vanno a vedere i dati questa gobba è inesistente per quanto riguarda appunto la popolazione sui numeri è inesistente sulla natura di queste persone di questa generazione beh le caratteristiche del boomer rimangono anche i boomer italiani hanno bruciato i reggiseni hanno fatto le manifestazioni contro la guerra hanno sperimentato l'amore libero hanno sperimentato le droghe hanno cambiato la scuola hanno fatto tutto quello che hanno fatto i boomer e tu nel libro dici che in realtà un nome per definire questa categoria di persone in realtà ce l'avremmo già che è sessantottini no il fatto però è qua diciamo te lo chiedo è una domanda che mi sono fatto un po' leggendo il libro perché questa etichetta ormai cioè perché boomer c'è c'è apparsa all'orizzonte come una parola con un'aura così più attraente più più seducente e invece sessantottini questa parola si ha il diminutivo sminuente in ini e già da vent'anni insomma l'etichetta è stata un po' trita e ritrita e ha sempre un significato un po' negativo beh noi non abbiamo mai parlato con con riconoscenza scusate quelli nell'angolo veramente vi beccate delle spalle non abbiamo mai parlato con sufficiente entusiasmo di quello che è successo fra i tardi anni sessanta e gli anni settanta ovviamente l'italia ha conosciuto il terrorismo ci sono gli anni di più un sacco di problemi ma i problemi li hanno avuti tanti paesi ma la forza propulsiva di quella generazione non viene mai riconosciuta si parla dell'eroina si parla delle crisi economiche si parla del terrorismo ma è molto difficile che qualcuno dica o quella generazione lì ha preso e ha cercato e in parte è riuscita ha cercato di ribaltare tutto quello che c'era proprio perché non aveva il peso della guerra del dolore del sacrificio dei dei genitori o dei nonni l'avevano vissuto loro però è una generazione che è nata nella serenità nello sviluppo e nelle potenzialità non voglio dire infinite ma molto grandi anche di un di un impegno collettivo gli anni settanta sono anni collettivi in cui si fa tutto dentro dei comitati a dei collettivi delle comuni delle organizzazioni tutto quando si descrivono i sessantottini sembrano di un narcisismo individualista assoluto delle persone che non vogliono lavorare non vogliono fare niente vogliono prendere il 18 politico all'università però secondo te perché questa cosa qui e non è così da oggi è così da 20 anni nel senso io mi ricordo non so il personaggio del padre di caterina in caterina va in città e ormai parliamo di un film davvero che è uscito più di 15 anni fa forse anche 20 è il tipico sessantottino no fallito cerca riscatto social attraverso sua figlia cioè non è da ieri che questa è dispregiativa però perché è successa questa cosa qui secondo te ma io ho il sospetto che noi siamo un paese tendenzialmente gerontofilo e innamorato delle tradizioni innamorato del classico che diciamo cozza con la contemporaneità quotidianamente e adesso poi appunto nel libro si parla molto anche d'altro però se vogliamo vedere nel caso specifico la maggioranza di governo attuale vive girata indietro ovviamente perché il governo più di destra della storia ma tendenzialmente c'è sempre un desiderio di rivolgersi al passato eccetera e i boomer sono stati la generazione che a un certo punto ha detto bene tutto ma anche basta non ci sono riusciti bene lo hanno fatto in cento modi hanno provato eccetera l'idea che la generazione dei sessantottini abbia fallito in maniera proprio incontestabile è un'idea tutta italiana non è così negli altri paesi certo c'è tutto un ripensare quello che è successo ricorda con rabbia per citare osborne però il fatto che la società sia cambiata radicalmente in quel momento lì cioè i primi a dire vogliamo stare insieme fra maschi fra femmine vogliamo mollare la struttura familiare tradizionale vogliamo rivedere la scuola vogliamo i primi sono stati loro sono stati i boomer che poi noi abbiamo diciamo trascurato in questa valenza e abbiamo etichettato con sessantottini con tutto l'addentellato che c'è che ci sta dietro però quella generazione lì è una generazione effettivamente diciamo problematica nella relazione con i più giovani soprattutto per questa ragione perché effettivamente hanno fatto tutto loro in termini soprattutto di affermazione dell'individuo che è la cosa che le generazioni più giovani oggi soprattutto quelle molto presenti online molto militanti fanno cioè nell'affermazione di sé rispetto alla tradizione rispetto al dogma rispetto a alla società insomma nella quale erano immersi infatti tu ad un certo punto dici alla fine è impossibile non odiare questi sessantottini ovviamente grosse difficoltà pronunciare sessantottini sessantottini c'è qualcosa di sibilante come bis di robinuto della sibilante nasale dentale complicato e tu dici però alla fine sono proprio antipatici cioè anche questo sono allo stesso tempo adorabili perché hanno iniziato a fare delle cose deliranti in un momento storico in cui era veramente assurdo farlo cioè nell'italia degli anni 60 e 70 dire e invece no vado in puglia a stare con degli amici nella comune coltiviamo noi fumiamo marijuana scopriamo tutti insieme questa cosa era completamente assurda anche per giorgia meloni assurda questa cosa certo e quindi da una parte sono quelli sono insopportabili per quello perché oggi una persona più giovane di me che sono x ormai quasi 50 anni ma qualcuno che ha 25 anni 30 anni 20 anni si affaccia e vuole essere protagonista del del delle proprie istanze delle cose che dice ha sempre uno zio una mamma ormai quasi un nonno che dice ma io ciao certo il cbd ci facevamo le pere grazie ripassiamo ripassa più tardi quando vuoi fare la persona moderna e con lo slancio e questo vale per tutto quindi da un certo punto di vista quelli che hanno cominciato a dire nel 2019 alla gente che online diceva siete dei rammolliti non avete voglia non fate ok boomer quindi ok boomer sta per tu la pensi così ciao con tutto il fastidio che questo suscita in chi riceve questo questo epiteto diciamo avevano ragione perché a un certo punto uno cioè sono da capire perché a un certo punto uno dice potrò fare una cosa io che non hai fatto tu esattamente come la generazione dei genitori dei boomer era nei confronti delle azioni dei boomer cioè vado in puglia con gli amici nella comune la risposta era cos'è una comune cosa fai scellerato stai qui dove vai pezzo di cretino rammolli fantastico un confronto diretto fra generazioni in cui tu puoi dire ai tuoi genitori siete altro da me arrivederci con i boomer non si può fare perché i boomer hanno già fatto tutto e quindi quando cerchi di drogarti l'han già fatto ricostruire la famiglia in un altro modo l'han già fatto loro non mi sposo faccio tre figli l'han già fatto quindi vanno capiti quelli di 25 anni che non ne potevano più al contempo però dal momento in cui i boomer hanno fatto queste cose sono passati 30 40 50 anni e oggi come dice anche nel libro sono diventati un po qualcos'altro e questo qualcos'altro è anche difficile da definire io infatti adesso prova a fare un piccolo test un piccolo quiz e tu dovresti rispondermi in quanto massimo esperto della definizione del delimitare il campo diciamo del del boomer tu devi dirmi da 0 a 10 diciamo quanto quanto è boomer la cosa che ti sto per per dire per esempio vai firmarsi con il proprio nome alla fine di ogni messaggio whatsapp quanto è boomer da 0 a 10 questo almeno un 8 9 cioè boomerissimo questo ok per boomer c'è il profilo c'è scritto sopra il nome cioè proprio perché l'hai mutuato dalla vecchia lettera vergata a mano chiedere dove posso comprare questo libro a chi annuncia sui social di avere scritto un libro questo è abbastanza boomer però è anche un po imbarà direi un 7 6 al 7 e figlio anche un po del di quelle interazioni dei social che sono un po goffe per natura quindi io voglio dire mi interessa quello che fai non so come dirtelo e allora ti dico dove lo posso comprare credo in libreria credo invece mandare una mail per chiedere il permesso di mandare un'altra mail questo 8 e mezzo 8 e mezzo in cima alla classifica vabbè scusa questa forse non la leggo neanche anche l'sms o il messaggio sms non ne parliamo ma è il messaggio su whatsapp che dice ti ho mandato una mail diciamo che queste sono delle nevrosi della comunicazione contemporanea dalle quali a volte riescono a salvarsi le persone un po più giovani perché maneggiano anche l'aspetto nevrotico e dicono no questo non lo faccio lo fanno molti ma mi sembra una scemata mentre il boomer arriva un pochino più in punta di piedi e quindi dice boh si farà così io provo è quasi sempre la sbaglia cioè fa troppo non è che sia però fa troppo ne ho scritta una che forse è troppo boomer cioè il boomerometro esplode si spacca l'indicatore fuma inviare foto di nonati sorridenti col fiocco in testa per augurare buon martedì a un certo punto io lo dico il problema dei boomer è che si sono asserragliati come capito una piccola falange che prova un colpo rivoluzionario che non gli riesce c'è fuori la polizia loro sono asserragliati dentro a facebook e tutto il mondo dall'esterno cerca di convincerli ad andarsene loro no buongiornissimo caffè oppure le foto dei cigni col cuore con una frase di sepulveda che non è di sepulveda ma loro non lo sanno e continuano a mandarla a tutti cioè facebook un po come second life man mano che viene abbandonato dalle generazioni più giovani diventa proprio una specie di coacervo di rich di rifugio di boomer io ci sono entrato l'altro giorno dopo due mesi non fatelo davvero non fa è un posto brutto molto brutto si sente il vento rotolano le palle di sterbi esce il fumo dei boomer che dicono ma quanto era bravo bob dylan prima della svolta elettrica uno dice amico senti ma questa goffaggine con la tecnologia col capire il registro metto il nome non lo metto secondo te è proprio una questione perché tu nel libro appunto la definisci un po la cifra no del boomer essere imbaranato c'è c'è una un'immagine bellissima che dai del boomer che non vi dico perché il libro dovete comprarlo e leggerlo ma che quando l'ho letto ha detto è esattamente questo il boomer ma questa questa goffaggine secondo te a cosa è dovuto semplicemente al fatto che la tecnologia internet i social gli smartphone sono arrivati quando il loro cervello non poteva più diciamo accogliere nuova informazione impara delle cose nuove oppure c'è dell'altro c'è un c'è l'unione fra due secondo me fra due fenomeni il primo è legato allora boomer significa due cose io sono x sono del 74 quindi sono x eppure mia nipote mi dà del boomer regolarmente marta è anche citata nel libro ed è giusto così perché boomer in prima istanza voleva dire i baby boomer con tutte le loro caratteristiche poi per estensione tutte le volte che uno manifesta o una imbranaggine cronica nei confronti della tecnologia oppure un punto di vista o un modo di esporlo che è proprio un po' antiquato e che oggi non funziona più può essere definito un boomer quindi quando non riesci a far andare un filtro di instagram è normale che i tuoi nipoti ti dicono zio che boomer però dai ok ok oppure quando siete in giro state parlando al telefono con la torcia accesa qualcuno vi dice c'è la torcia accesa e la reazione naturale di tutti è ah che boomerata scusa cioè e vabbè e questa è una parte cioè l'essere imbranati o vedere il mondo in un modo antiquato in un modo fare delle sparate contro non so le posizioni politiche ok che uno dice va bene quindi queste sono le due versioni della della definizione di boomer secondo me si unisce nel loro essere così profondamente boomer questo fatto cioè che le generazioni più giovani io quando avevo pochi anni già smanettavo coi videogiochi con i compiù il commodore il 64 queste cose quindi sono riuscito a avvicinarmi alla tecnologia nel momento in cui il cervello era ancora abbastanza spugnoso i boomer no e questa cosa vale per tutti sempre cioè un'evoluzione continua in più c'è il fatto che il boomer sa il fatto suo in una certa misura ma è convinto di sapere il fatto suo per cinque perché è cresciuto in un periodo in cui al telegiornale dicevano perfino pasolini gli diceva questi capelloni non dovete essere capelloni non dovete sentire gli who dovete andare a lottare con il pc insieme agli operai e uno dice ma anche tu pierpaolo tutti che ci rompono le palle su sta roba e quindi i boomer hanno sviluppato questa sicumera questa voglia di porsi tale per cui arrivano in un contesto in cui non è che la sappiano bene dicono ma sì adesso mi organizzo io buongiornissimo caffè e la sbagliano con slancio secondo me è l'unione di queste due cose cioè di aver sviluppato una certa voglia di porsi come qualcuno che non ha paura di niente e anche il non saper maneggiare le cose d'altronde se ci pensiamo alcuni dei giganti dell'hardware sono boomer steve jobs bill gates quella generazione lì di quelli che hanno preso l'oggetto calcolatore e tutti gli altri oggetti li hanno se pensiamo invece a quelli dei servizi che oggi sono i miliardari in dollari non ce n'è uno che sia boomer non è boomer ilon mask non è boomer brin non è boomer page non è nessuno google facebook amazon non ce n'è uno perché perché l'impalpabile non appartiene ai boomer ma comprensibilmente giustamente gli oggetti sì quindi i pc e i mac li hanno venduti dei boomer anche sui software ma quando poi si arriva al un po per ragioni anagrafiche ma proprio un po per ragioni di divisione tutti i miliardari di oggi non è che gli altri siano tutti morti povero steve jobs è morto ma gli altri sono vivi eppure sui servizi sono fortissime le generazioni più giovani sui social network sono fortissimi x e millennial non i boomer quindi questa cosa vale vale per tutti sempre cioè la parte tecnologica del discorso continuerà perché adesso arriveranno dei ragazzini che invece di maneggiare l'ipad per vedere da soli i cartoni di mascia e orso maneggeranno l'intelligenza artificiale in una sua versione semplice embrionale per far delle cose e quello cambierà il loro modo di ragionare di interfacciarsi con la tecnologia senti invece nel libro parli del fatto che in una maniera diametralmente opposta rispetto alla tecnologia nella musica nell'arte e anche in parte nel cinema è vero che i boomer hanno già fatto praticamente tutto e che diciamo le giovani generazioni hanno proprio meno strumenti meno materiale per fare cose quindi c'è tutto un discorso da fare sulla nostalgia sul manierismo sul riprendere cose già fatte rimpacchettarle e ripresentarle questa cosa qui è vera o secondo te c'è ancora spazio perché appunto le generazioni nuove per esempio adesso è una domanda veramente enorme ma l'intelligenza artificiale ma infatti l'intelligenza artificiale che hai appena citato può innestarsi a diciamo può dare la possibilità a un musicista che oggi ha 19 anni di fare una cosa che un musicista boomer non poteva neanche immaginare? che domanda complessa allora io penso che il valore assoluto delle opere d'arte non esista che tutto sia relativo all'importanza che noi gli attribuiamo quindi certo se vogliamo trovare una differenza fondamentale nell'epoca dei boomer in parte nell'epoca degli dei giovani X come me e non degli X di quasi 50 anni la musica le arti in genere erano un elemento centrale dell'identificazione delle persone quindi tu portando i capelli lunghi e sentendo determinati gruppi ti distinguevi in maniera netta rispetto ai tuoi genitori cioè i boomer sono la generazione che ha inventato come concetto perché molti di quelli che suonavano non erano boomer erano più vecchi no? però i boomer sono stati i primi che hanno vissuto il concetto di rock and roll cioè rock and roll si traduce così io non sono i miei genitori quel concetto lì è un concetto molto boomer le generazioni successive si sono ritrovate con mamma e figlia che cantano insieme Beyoncé e quindi i contenuti culturali non bastano più per definirti ci vuole altro e magari non vuoi neanche così tanto definirti come altro dai tuoi genitori quindi quell'elemento lì della cultura dei boomer appartiene a quel periodo storico e alla funzione che aveva la musica in quel periodo per essere giusto per un secondo ci facciamo crescere la barba e assumiamo quella espressione saggia e bonaria che ha Carlo Marx quando io ero piccolo tutti i soldi della paghetta andavano in supporti fonografici tutti e libri e basta avevo niente non che fossi povero famiglia borghese non mi è mai mancato niente ma non è che avessi quattro motorini però non avevo niente di particolarmente notevole dal punto di vista dei beni materiali però un sacco di prodotti culturali in una versione fisica questa cosa qui non c'è più non c'è più c'è per i libri ma per esempio per i dischi non c'è più i dischi non sono più e la musica non sono più un elemento così che distingue così tanto nel quale investire così tanti soldi si investono attenzione insomma le cose cambiano sempre e io sono contrario a qualunque forma di pessimismo e di passatismo perché li trovo consolatori per statuto quindi non me ne frega niente va benissimo quello che fanno oggi viva i maneskin quindi tutto tutto è inutile che cerchi di di tirarmi di attirarmi in un tranello questo è un tranello perché forse qualcuno lo sa io e misc facciamo un podcast su dei podcast sulla musica uno sull'eurovision e uno sul su sanremo insieme a giulia balducci e stefano vizio per il post nei quali c'è un confronto abbastanza spesso abbastanza teso fra la visione fra chi sta dalla parte del bene tutti gli altri del caro vecchio bene aggiungerei come Luca e chi invece è più possibilista anche sul trasporto nei confronti del demonio dello zoccolo caprino del pentacolo capovolto bene tra l'altro siamo a Torino quindi perché non approfittare per salutare anche Alistair Crowley maestro allora secondo me il punto della questione è che il giovane militante quando si interfaccia con il boomer vede un animale che è molto diverso da tanti punti di vista anche per queste questioni cioè la questione dell'importanza che si attribuisce alla presenza sui social network al tuo posizionarti all'identità di cui tanto parliamo e invece tutto il ragionamento che faceva chi andava a manifestare d'altronde se voi guardate un'immagine di una manifestazione di una grande manifestazione per la pace se anche non la guardate se chiudete gli occhi e immaginate una grande manifestazione per la pace molto spesso il nostro immaginario va verso delle fiumane di boomer con la barba con le gonne con i pantaloni molli mezzi nudi che sorridendo e fumando uno stuolo di canne marciano contro la guerra è lì che è stato costruito un immaginario questo immaginario qui è un immaginario di lotta di identità che un po' è imprescindibile perché è quello è ingombrante e allo stesso tempo può essere un modello e poi il cuore della questione è che grandi e piccoli difficilmente sono nello stesso posto facciamo l'esempio prima tu vai a un concerto a vedere un gruppo che piace ai giovani non ci sono i tuoi genitori e invece sui social network ci sono la ragione per cui è scoccata la scintilla fra le generazioni e hanno cominciato a prendersi a ok boomer è quella che tu dovresti solo a tavola essere nello stesso posto in cui ci sono le due generazioni per il resto della giornata meno lo fai e meglio è per tutti per i grandi e per i piccoli e invece i social network sono dei posti dove si pensava che questa separazione delle acque la facessero gli algoritmi che fanno in modo che siamo nello stesso posto ma non ci vediamo e invece no è un po' su tiktok questa cosa qui forse succede però su mio tiktok ci sono degli indiani che fanno artigianato costantemente io ho solo video di cucina ma giuro solo video di cucina quelle cose lì che ci definiscono come non voglio dire boomer in senso stretto ma dei semi boomer boomerini comunque senti prima citavi appunto queste immagini che tutti abbiamo in mente di manifestazioni oceaniche contro la guerra in Vietnam per la liberalizzazione delle droghe in Italia insomma si è manifestato per tutto divorzio aborto esatto e diciamo il fatto che queste manifestazioni fossero oceaniche porta anche un po' dovrebbe portare un po' forse i boomer stessi a riflettere sul fatto che loro la loro generazione ha fatto tutto è stata in grado di fare tutto anche perché erano tanti erano tantissimi convinti era di moda non c'era bisogno di fare otto ragionamenti per essere militanti era di moda si faceva così funzionava così però la questione numerica secondo me è abbastanza inesplicabile nel senso che poi sono andato un po' sulla scorta del tuo libro a cercare un po' di dati un po' di numeri nel 68 in Italia c'erano 11,2 milioni di persone che avevano un'età compresa fra 15 e 20 anni in pratica su 50 milioni 52 1 su 5 era in età da manifestazione oggi i numeri sono molto cambiati ci sono 8,6 milioni di persone in età compresa fra 15 e 29 anni in Italia su 50 milioni sono 1 su 7 e questo non è un cambiamento da poco ah beh no non ha a che fare ribadisco con una straordinaria quantità di boomer ma con il fatto che siamo un paese in contrazione demografica e quindi quello spirito giovanile che un po' è quello dei boomer ma è anche delle generazioni più giovani che gli hanno detto state al posto vostro quando pesa meno in termini di massa cioè quando a meno produce diciamo una spinta inferiore beh ha un effetto inferiore per cui ovviamente cambia tutto le posizioni si radicalizzano di più l'elemento diciamo di polemica nel contesto della comunicazione aumenta quello di leva elettorale diminuisce perché sono meno e anche se votano non riescono a spostare molto il punto di vista del nonno che invece legge la verità e quindi diciamo produce una frustrazione costante nel nipote o nella nipote che vorrebbe cambiare le cose il contesto è molto cambiato poi sono quei numeri talmente spietati che fanno un po' effetto però è così se si è in pochi si conta meno senti hai citato il nonno che legge la verità nel libro tu parli di sessantottini parli di boomer come la generazione che è scesa per strada che ha lottato per certe cose mi sono un po' chiesto leggendo il libro perché hai scelto di tralasciare se non ignorare tutta quella parte di giovani di persone che nel 68 erano 15 18 22 anni che non scendevano in strada cioè tutta quella quell'Italia che votava da un'altra parte pensava a cose un po' più retrograde cioè quei boomer lì quei sessantottini lì dove li metti in tutto questo ragionamento allora per diciamo trovare dei tratti caratteristici della generazione qui si potrebbe fare posso fare il discorso delle generazioni allora le generazioni non esistevano sono esistite sempre le generazioni familiari cioè giovani e vecchi sempre dall'Iliade in poi dal primo libro i giovani e i vecchi un pochino si prendono a parole nel senso che i vecchi dicono ai giovani voi siete dei rammolliti e i giovani dicono ai vecchi io voglio fare quello che voglio se magari non rompi le palle ti sposti è meglio da sempre così tutta la commedia plautina si basa su questo lui lei i giovani vogliono sposarsi le famiglie non vogliono il servo sciocco li aiuta a sposarsi perché i grandi non vogliono e i giovani vogliono fare quello che questa dinamica è andata avanti per migliaia di anni finché con il novecento non sono arrivate queste nuove categorie per cui le esperienze comuni valevano più dell'esperienza familiare della natura di giovane o di vecchio di figlio o di genitore si è diciamo all'inizio del novecento no poi man mano a posteriori riguardando le generazioni si è cominciato a definirle e così sono nate le generazioni moderne ora le generazioni attuali sono delle fette che vengono prodotte con una taglierina sul calendario precise quindi y cioè x y z finito il calendario finito il il vocabolario il dizio insomma l'ordine alfabetico latino partiamo con quello greco alfa quindi i giovani di adesso sono alfa poi ci saranno i beta gamma chi lo sa quindi adesso sono solo delle così delle tranche di esistenza che dividono le persone e lo fanno per ragioni soprattutto pubblicitarie giornalistiche e perché ci piace dirlo e perché la pubblicità ha imparato a targhettizzare i boomer per primi e poi le altre categorie e va bene tutto questo era per dire perché ho trascurato perché rispetto a questo discorso il tratto caratteristico della generazione dei baby boomer è quello dello slancio ovviamente dentro lì c'erano anche delle persone che nel benessere del dopoguerra nello sviluppo nel fatto che non si lavavano più i panni ma si prendevano le lavatrici della igni se le donne potevano passare del tempo facendo quello che gli pareva e non rugare e per lavare i panni tutta questa cosa per alcuni è stata più rilevante è stata comunque rilevante per tutti ha spinto alcuni a fare quel passo in più e secondo me quel passo in più è quello un po' che li caratterizza diciamo che ho la sensazione che nel corso della storia ci sia una fetta di maggioranza diciamo maggioranza silenziosa ma insomma una fetta di popolazione che vive i cambiamenti del momento ma forse non li cavalca per andare altrove o per distinguersi rispetto al flusso quindi certo è chiaro che qui sembra eccebombo no? eh no perché 40 anni di governo della democrazia cristiana lega virà è evidente che si continuava a votare DC eccetera però l'anno della mia nascita i miei che avevano sempre votato repubblicano nel 74 mi sembra insomma intorno a me hanno votato PC è stato l'anno esisteva una spinta esisteva una tendenza una dinamica quando si vedono i documentari delle cose che avvenivano negli anni 70 la differenza è evidente poi è chiaro che se vai in un tinello a Gallarate è simile vabbè anche a Varese niente contro quelli di Gallarate o di Chivasso Gallarate è un po' la Chivasso di Varese saluto tutti quelli di Chivasso però ho voluto sottolineare quello che li distingueva molto rispetto alla generazione prima la generazione prima era molto presa nell'andare in guerra non morire sparare eccetera e tornare a casa tutta sana e salva però ovviamente c'era un fettone di persone che insomma viveva secondo il flusso delle cose ecco senti abbiamo parlato anche di questa ha iniziato questo discorso questa risposta parlando di come le generazioni vengono appunto divise vengono selezionate dai pubblicitari dai giornalisti il pezzo che aggiungi nel libro è che tutto questo spesso viene negli Stati Uniti e un'altra cosa che mi sono chiesto leggendo questo libro è questa noi effettivamente dagli Stati Uniti importiamo tantissimo dal punto di vista culturale dell'immaginario delle etichette per cui appunto anche la generazione X i boomer eccetera eccetera ma non è che quindi diciamo importando così tanto anche noi un po' alla fine diciamo per osmosi assumiamo un po' le caratteristiche delle persone e dato che condividiamo questo immaginario cioè non è che i nostri sessantottini assomigliano un po' ai baby boomer anche perché nei film nelle serie tv nei romanzi in tutto il resto vengono rappresentati in quel modo e quindi assorbono un po' di tutto quel vibe lì non so nemmeno come chiamarlo in italiano ho capito cosa intendi ma io penso sinceramente di no penso che il termine infatti baby boomer sia rimasto nell'alveo delle discussioni sugli Stati Uniti e sui figli del dopoguerra statunitensi sui baby boomer propriamente detti proprio per questo perché non era una categoria così esportabile poi è successo che poco prima che rimanessimo chiusi in casa per la pandemia globale si diffondesse questo elemento questo animale l'espressione ok boomer e cominciasse a serpeggiare nelle nostre esistenze e ci abbiamo dovuto avere a che fare e quindi lì poi diciamo privata della sua natura prettamente statunitense l'espressione che voleva dire non mi rompere le palle non mi stare addosso ho capito sei un vecchio stai nel tuo tutto questo tutto questo significato allora quel significato lì si è diffuso perché era esportabile anche da noi perché quel tipo di relazione grandi piccoli funzionava però la diciamo la base cioè quando Clinton era presidente e i media americani parlavano del trionfo dei boomer beh quello era un elemento sostanziale cioè c'era della sostanza erano molti milioni di persone in più nella popolazione erano un grosso gruppo che aveva delle caratteristiche che aveva fatto delle esperienze nella vita che aveva attraversato determinate appunto esperienze e fatti e vissuto dei fatti storici e quindi se ne parlava tantissimo da noi no da noi boomer sono molto marginali sul piano del del potere politico cioè marginali diciamo hanno seguito l'andamento degli anni e hanno gestito il potere nel periodo in cui avevano l'età per gestirlo soprattutto e quindi direi che no non è tanto esportabile credo che noi siamo sicuramente influenzatissimi dagli Stati Uniti ma è evidente a tutti se pensiamo a parte se si vedono quei film sulla controcultura negli Stati Uniti tipo ce n'è uno con Robert Redford vecchio che sembra che abbia 250 anni che in quel film non so se qualcuno l'ha visto è un ex rivoluzionario dei weatherman un ex diciamo tra virgolette grandi come questa stanza brigatista americano uno che non ha sparato un colpo li hanno massacrati in tutti i modi vive come se fosse chissà cosa un cugino di secondo grado di Renato Curcio lo manda a casa correndo cioè noi abbiamo fatto tutta un'altra esperienza cioè non non c'entra nulla anche sul piano del certo Woodstock certo le marce la convention repubblica tutto quello che vogliamo però nella diciamo loro natura proprio profonda i protagonisti di quel periodo storico in Europa e in Italia in particolare hanno fatto esperienze molto diverse il punto è che l'espressione ok boomer almeno io diciamo l'ho presa in questo senso ha preso vita e ha funzionato in rete non tanto perché in rete si diffondono le cose e basta ma perché effettivamente ha prodotto una reazione cioè ha dato la possibilità di trovare un confronto fra generazioni che c'era cioè fra persone diciamo con età diverse prospettive diverse chiamiamole generazioni ma c'era questa questione ok boomer è stata la valvola di sfogo e allo stesso tempo l'occasione per dire ah ma allora non siamo pazzi noi allora è vero che questi arrivano pensano di aver capito tutto non hanno capito tante cose spianano i punti di vista delle generazioni più giovani non pensando come facevano i loro di genitori siete dei giovani non ce ne frega niente sposatevi lavorate partecipate al processo produttivo non andate a manifestare non date fastidio questa era la posizione dei genitori dei boomer i boomer da genitori da nonni invece hanno da dire hanno da dire sul quid è come se dicessero sì mi piacciono i rolling stones però non tanto Mick Jagger no hanno sempre detto quella musica fa schifo io voglio sentire modugno vattene via il che è fantastico se sei il figlio e se sei il padre i boomer sono più complicati ti tengo ancora su questa diciamo questo confronto generazionale perché e tu nel libro a un certo punto lo accenni per le nuove generazioni invece questo diciamo questo importare etichette categorie dagli Stati Uniti invece è qualcosa che diciamo li tiene diciamo rimane più attaccato il fatto che anche in Italia per esempio ci si appenda così tanto alla propria identità e la propria identità sia vissuta come una cifra del proprio attivismo politico del proprio impegno delle cose in cui si credono questo secondo te è un effetto dei social della globalizzazione cioè il fatto che e poi qua c'è un'altra domanda attaccata questa incomunicabilità difficilissimo ritolgo gli occhiali vai questa incomunicabilità fra chi oggi ha 19 anni e i boomer non è anche appunto un un segno di questa cosa qua cioè il fatto che ormai i giovani oggi sono fatti in un modo completamente diverso e anche e anche in Italia diciamo mutuato da quello che succede negli Stati Uniti cioè un 19enne oggi una 19enne oggi va su TikTok si vede il video della deputata statunitense transgender che manifesta per la Palestina eccetera eccetera non è che appunto anche qua cioè assorbendo quelle cose là tutto diventa più incasinato nel rapporto con i genitori eccetera eccetera rimetto gli occhiali per darmi un tono vediamo se riesco a rispondere allora secondo me tendiamo a essere molto eurocentrici e a pensare che tutto venga dagli Stati Uniti e tanto viene dagli Stati Uniti e la cultura anglosassone certo TikTok però per esempio non ha niente di anglosassone è un'azienda cinese è un'applicazione cinese la gran parte degli utenti non sono bianchi occidentali sono cinesi ce ne sono ovviamente tantissimi anche in giro per il mondo ma diciamo se mi chiedi se la questione è quanto importiamo dagli Stati Uniti tutto questo e le caratteristiche delle generazioni più giovani direi non così tanto sì chiaramente però in una misura diciamo sempre più stemperata dalla presenza di altre tradizioni e TikTok è un posto dove c'è una montagna di rappresentanza di persone che vengono dal resto del mondo TikTok è un luogo dove diciamo hai proprio la netta percezione che l'algoritmo ti stia anche dando una controllatina alla prostata e il che è inquietante ma allo stesso tempo è il primo social network in cui esiste l'Asia esiste l'Africa perché prima pochissimo cioè è il primo social network in cui il mondo si allarga oltre la costa ovest degli Stati Uniti come epicentro e io sono convinto che effettivamente sia cambiato proprio il modo in cui ci si posiziona sia cambiato tutto chiaramente proprio in relazione a questi argomenti che citavi cioè come ci si pone pubblicamente che cos'è l'impegno che cos'è l'identità che è una questione centrale tutto questo è diciamo fa parte di una separazione che è avvenuta o di un allontanamento che è avvenuto fra le generazioni ok boomer da questo punto di vista mi sembra un momento di più più di incontro che di scontro cioè è un momento in cui si prende atto del fatto che nello stesso posto ci siano delle persone che però hanno un punto di vista sulle cose che è molto diverso ti faccio degli esempi cose che i boomer e anche gli X possono aver visto rispetto alle quali hanno avuto una reazione o hanno un modo di vedere il mondo che per le generazioni più giovani sono inammissibili o sono assurde per esempio fare dei complimenti serenamente senza pensarci senza malizia e senza niente di tremendo a personale soprattutto di genere femminile nei locali picchiare i bambini per strada perché si sono comportati male è una cosa che ai miei tempi ogni tanto si vedeva due schiaffoni e la generazione prima delle mie altro che due erano otto e mio padre diceva che negli anni subito dopo la guerra gli era capitato qualche volta di essere benato 365 volte in un anno tutti i giorni prenderle almeno uno schiaffo o due perché ti eri comportato male questa cosa agli occhi dei mio papà non c'è più da tanto ma anche per me che ho visto qualche schiaffone beh chi ha 20 anni oggi non ammette questa cosa chi ha 20 anni oggi non ammette mezza battuta diciamo se è fatto in un certo modo sulle questioni di genere per esempio proprio a un altro punto di vista la tolleranza nei confronti di certe cose la leggerezza nei confronti di altre cambiano nel corso per fortuna la società cambia diciamo che l'attrito che c'è fra le due generazioni che si è creato testimonia il fatto che nonostante se noi vediamo quello che fa per esempio oggi insomma le dichiarazioni le posizioni sostenute con forza dal nostro governo i principi da difendere tutto quanto darebbero l'impressione che manchi completamente in Italia un'idea nuova di principi di idea di mondo eccetera manca in questa compagine di governo ma in realtà se si scanna chi ha 25 anni con chi ne ha 60 è saggio vuol dire che per quanto fosse dirompente innovativo il modo di vivere dei boomer non basta più ce n'è un altro che deve essere più attuale più legato alle sensibilità attuali stare arroccati a dire era meglio quando cantavamo we shall overcome in corteo e non eravamo sui social network serve a qualcosa io ho idea di no senti faccio un paio di altre domande poi se qualcuno ne ha e sono sicuro che sia così lasciamo spazio a voi la prima è sul tuo lavoro quotidiano che fai con noi al post Matteo per chi non lo sapesse ma credo che qua siamo tutti edotti conduce un podcast quotidiano che si chiama Tierini Bordone è disponibile per gli abbonati e le abbonate al post è una striscia di 8 9 10 11 12 minuti in cui Matteo fa Matteo e questa credo sia la definizione migliore che si possa dare e hai anche una diciamo Tierini Bordone ha una casella di posta dedicata e tu ricevi un bel po' di messaggi di feedback di critici eccetera eccetera qualcuno ti avrà scritto immagino ok boomer in risposta a una puntata che hai fatto o no? la verità è che no non me l'ha scritto nessuno ok boomer e se succedesse che cosa risponderesti? beh quando succede e ciascuno di noi a parte che non ho fatto questa cosa chi è nato scusate guardiamo solo le braccia quindi non sentitevi giudicati dall'età rughe cose chi se ne frega chi è nato fra il 46 e il 64 alzi la mano pochi poveri poveri non so quanto è quasi un'ora che sentono parlare di boomer e sono in territorio nemico con intorno tutta della gente più giovane che li giudica un applauso ai boomer in sala allora devo dire che ok boomer non me l'hanno mai detto però se ti me l'hanno detto spesso i miei nipoti ma senza ok dal vivo dal vivo dal vivo tendenzialmente ok boomer no perché anche se oggi ok boomer è proprio diciamo il tempo di ok boomer è passato il momento di ok boomer è passato oggi ok boomer si dice per citare il 2020 fa una gag e ok boomer ma già mentre lo fai sei boomer quindi non bisogna oggi è rimasto solo boomer cioè sapete che insomma un modo per vedere le parole e il linguaggio è quello di vederli come dei pezzi di codice genetico il meme è questo è un gene di comunicazione di informazione e quindi ok boomer ha funzionato per far arrivare questo pezzettino di DNA di linguaggio dentro alla società e poi ok era di troppo è rimasto solo boomer quindi qualche volta capita che qualcuno mi dica ma non so magari anche di sé magari tirandomi in mezzo sai anch'io sono del 74 o del 76 degli anni 70 magari è una posizione un po' boomer ma non trovi che bla 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 questo mi succede e succede anche a me di dirlo a volte ah forse sto facendo una boomerata forse sto dicendo una boomerata io ipotizzo che questa cosa qui sia positiva cioè che boomer sia diventato un modo per misurare la nostra presenza nella contemporaneità un modo anche gentile carino e a suo modo affettuoso tenero si ride quando ti danno del boomer bisogna proprio essere un collaboratore della verità per prendersela nel 2023 se ti danno del boomer uno dice ah ho detto una roba da boomer azzo cioè perché è così quindi oggi non viene più usato io uso questa uso questa metafora dico che per un po' è stata una specie di martello diciamo di gomma non di quelli che fanno male ma è stato un martello adesso è diventato più una non so se si dica in italiano una bindella un metro di quelli avvolgibili in cui misuriamo la distanza fra di noi il che secondo me è abbastanza sano anche per dare agli ai ai millennial agli z insomma a tutte le generazioni quel che è di tutte le generazioni cioè c'è una distanza non è che passate il tempo sul telefono e siete molto meno impegnati dei vostri nonni o dei vostri padri o che ne so boh la mia generazione non ha fatto niente per cui sono anche fuori dai giochi generazione X boh ritorno su quelli fuori dai negozi sono uscito tra dieci minuti ritorno è stato più o meno così la generazione X quindi sono un po' fuori dai giochi ma il punto è che secondo me oggi è un modo per dirsi tra le persone vabbè cerchiamo di capire come porci è molto diverso rispetto a voi non volete studiare non volete impegnarvi a affrontare le conseguenze delle vostre posizioni politiche da qui si è partiti con ok boomer adesso si è capito che se parti così ti becchi un ok boomer o la gente ti mostra la nuca e se ne va e quindi è meglio avvicinarsi o dire una cosa e dire boh forse è una boomerata ma secondo me è meglio così e anche dall'altra parte chi raccoglie questa cosa da più giovane dice sì magari è una boomerata ma magari è vera cioè siamo arrivati a un livello di serenità maggiore nella relazione fra le generazioni senti chiudiamo con la stringente attualità stiamo arrivando in quel periodo dell'anno quello in cui tutti ci mettiamo sul divano davanti alla sera accendiamo la tv e c'è Amadeus che presenta della gente la settimana di Sanremo possiamo dire che questi boomer questi sessantottini almeno una cosa ne hanno fatte tante però di recente cantare no stavo per dire salvare il festival di Sanremo perché il festival di Sanremo negli ultimi anni sta vivendo questa età dell'oro insomma di cui si è tanto scritto ne abbiamo scritto noi ed è stato salvato ma un po' più X che boomer secondo me però scusa Fiorello è un boomer Fiorello è boomer Amadeus è un boomer dentro cioè tu lo guardi ah tu dici dal punto di vista non anagrafico beh sì lì bisogna distinguere fra i boomer propriamente detti per ragioni anagrafiche i boomer per punto di vista o relazione con la tecnologia e i boomer per democrazia cristiana sono diverse categorie cioè lì forse la normalità la concretezza l'andare con calma e i piedi per terra verso il grande pubblico generalista che ha pagato credo di sì poi non so cosa succederà e questo festival lo scopriremo insieme nel podcast dedicato potrebbe essere il festival della restaurazione in cui si canta così con questo suono littorio dei tempi che furono la patria ecco che guadagna il palco il cantante albano grazie Grazie.